Ciao, buonasera a tutti. Bentornati su Apocalisse in Salotto. Questa sera sono qui con Marco Maculotti, che è fondatore della pagina Axis Mundi, o meglio, del blog della pagina Facebook e anche della rivista che presentiamo stasera. Ciao Marco. Ciao Anna, grazie, come sentite l'invito. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Adesso, mentre vi accomodate, sapete che come sempre avete un minutino per prendervi il vostro caffè, il vostro bicchierino, quello che volete, accomodarvi sul divano. Per chi sta seguendo Indifferita, ci sarà una sigla da un minuto, quindi potete passare a un minuto da adesso se non avete voglia di vederla e ascoltarla. E noi ci vediamo fra un minuto con Marco Maculotti per parlare di questo meraviglioso numero di Axis Mundi, il numero 3. che parla di Oniricon, il sogno olimpico e l'altrove. Sono sorella degli antichi re che mi esiliarono La loro guerra di Milano e io turvai Chiunai gli abissini cacciarono e il mare attraversai La notte ombrosa è il mio mantaio ormai Eccoci qui. Allora Marco, io intanto ti ringrazio per avermi inviato in anteprima la rivista, è veramente un numero, per me è favoloso, ma perché sogno, incubo e l'altrove sono temi che secondo me toccano da vicino le corde più nascoste dell'immaginazione e anche della fantasia, che sono doti che oggi come oggi sicuramente dobbiamo coltivare, scoprire e riscoprire Una cosa che ho particolarmente apprezzato di questo numero di Axis Mundi, se ti devo dire la verità è il fatto che, come sempre del resto, riesce a mantenere un livello elevatissimo dal punto di vista culturale non disdegna le incursioni simboliche e all'interno delle tradizioni però si distacca fortemente, anche se mi permetti, da un certo tradizionalismo nel senso che non si porta bandiera di alcuna parrocchia in particolare ma si esplora e si esplora da un punto di vista molto puntuale bibliograficamente parlando Allora stavo scorrendo l'indice che poi magari tu ci presenterai meglio ma stiamo parlando di articoli Il tuo in apertura sul sacro potere dell'immaginazione da Blecca Yates poi affrontiamo Coleridge, Mopassant, Lorraine, Lovecraft Il sogno di Vishnu e la Maya La caverna platonica e la Maya dell'Eupanishad I sognatori del Dreamtime questo molto amiccante, anche per stasera magari ne parleremo perché forse qualcuno ne ha avuto esperienza Il fenomeno della paralisi nel sonno secondo il folclore Alle origini del Lauro, lo spiritello incubo salentino Hieronymus Bosch, Aslepio, Usi rituali e medicinali del Papavero e Raggio Verde e varie biografie e illustrazioni quindi un numero veramente ricchissimo, complimenti Grazie Una rivista di più di 100 pagine quindi non stiamo più parlando di una rivista stiamo parlando di un collettivo di studi mi parli capire Sì praticamente sì, 108 pagine numero non a caso come anche gli altri precedenti albi anziché ne approfitto per mostrare al pubblico nel caso non li conoscesse già il primo albo è questo, dedicato al folk horror quindi da un punto di vista letterario e cinematografico albo esaurito ormai da tempo quindi molto difficile da trovare forse in qualche libreria il secondo che invece è più a tema tradizionalista e storia delle religioni che è il seguente uscito l'anno scorso dedicato alle feste di fine anno e alla fine del ciclo cosmico e quest'ultimo invece che presentiamo stasera che è appunto Oniricon il sogno l'incubo l'altrove di cui ho aperto le prevendite a sostizio invernale ho appena ricevuto questa coppia campione quindi giusto in questi giorni mi fa piacere anche mostrarvela dal vivo e rassicuro tutti quelli che hanno preso la prevendita che nel giro di un paio di settimane tre settimane mi arriverà il lotto completo e quindi tutti gli ordini acquistati in prevendita verranno effettuati il prima possibile come avrete visto anche a livello grafico di copertina, di formato mantengo sempre la stessa veste grafica gli albi sono a colori con carta patinata quindi insomma è un progetto abbastanza ricercato ecco diciamo non una rivista da edicola ma appunto io la chiamo albo anche per questo motivo copertina cartonata e via dicendo e come già mi hai sottolineato tu in questo albo anche nei precedenti però forse ancora di più in questo si fondono quelle due venature che hanno caratterizzato Axis Mundi fin dagli albori fin appunto dalla nascita del sito alla fondazione poi della casa editrice cioè da una parte il filone storico-religioso di studi tradizionali compreso anche ovviamente lo studio della mitologia del folklore e dall'altra parte invece tutto quello che ha a che fare con l'immaginario con l'immaginario e l'immaginale anche piccola differenza però termini che vanno a braccetto quindi per tutto quello che riguarda la letteratura la cinematografia anche da questo punto di vista però sempre ispirati a qualche esperienza che ha a che fare sempre con il mondo del sacro della storia delle religioni del folklore e via dicendo e se appunto il primo albo quello folk horror era più incentrato su questi temi mentre il secondo sull'ambito degli studi tradizionali in questo terzo albo come già hai anticipato giustamente tu troviamo metà degli articoli che afferiscono più al mondo tradizionale e religioso come appunto quali sull'Upanishad sugli aborigeni il Dreamtime australiano su Asclepio e via dicendo e poi c'è una larghissima parte sull'immaginale che afferisce appunto sia scrittori come Lovecraft, Mopassant Jean Lorrain ma anche a pittori come Bosch e quindi vediamo che poi chi leggerà l'albo e anche chi seguirà la diretta stasera comunque comprenderà come queste due anime di Axis Mundi sono come sempre strettamente interconnesse non c'è una vera linea che divide questi due tipi di discipline in modo netto perfettamente d'accordo perché l'arte e l'immaginario dovrebbero andare sempre a braccetto con il simbolismo questo purtroppo non sempre succede quindi la menzione d'onore era sostanzialmente per questo ma veniamo al tuo editoriale come prima cosa sogno di un'ombra è l'uomo in un celeberrimo verso a sottolineare la condizione esistenziale umbratile dell'essere umano ciò nonostante l'esperienza onirica fu da sempre per l'uomo antico così come per quello moderno viatico per meraviglie oltre che per orrori come ben dimostra la storia meta letteraria e sacrale e religiosa delle società umane e dei suoi singoli maggiormente illuminati e esponenti e poi qui passi a descrivere un attimino gli articoli che sono all'interno della rivista questa concezione però dell'altrove come luogo di sogni e anche di orrori non te la sei inventata tu assolutamente no ovviamente ci sono stati attraverso i secoli numerosi autori sia dal punto di vista appunto degli studi del sacro che autori più prettamente letterari come appunto Lovecraft Mopassant Marken Montaghiro James eccetera eccetera che hanno effettivamente capito compreso che la dimensione onirica è molto più larga concettualmente del semplice sogno che uno fa di notte mentre dorme anzi il sogno appunto è un viatico verso questo altrove verso questo altro mondo che è quello appunto onirico delle ombre ecco Pindaro diceva sogno di un ombre è un uomo però al tempo stesso è nelle ombre del sogno che l'uomo in qualche modo può superare questa sua condizione umbratile a mio parere questo è per esempio si può citare ovviamente il caso di Lovecraft per cui fin da bambino ebbe questi sogni incredibili in cui appunto sognava come dei viaggi astrali di essere trasportato in mondi alieni in mondi antichi ancestrali e tutto questo poi è andato appunto a formare la sua opera in maniera molto netta e lui se ne è reso conto forse neanche tanto in maniera conscia perché ha iniziato a scrivere racconti di questo genere non da giovanissimo già verso il 1925 insomma quindi ha più di 30 anni oppure anche lo stesso Mopassant che viene trattato in questo albo in un bellissimo articolo di cui io voglio voglio nominare subito in apertura perché l'autore è questo Mike Jay che magari qualcuno di voi conoscerà perché è noto è uno dei massimi studiosi anglofoni di studi sulla psichedelia e su tutto quello che ha a che fare sulla psichedelia anche qui in senso ampio e questo articolo è stato originalmente pubblicato sul The Public Domain Review che è considerato unanimamente anche da giornali insomma come New York Times giornali del genere come la rivista culturale migliore del mondo e quindi è online tra l'altro The Public Domain Review potete ovviamente andare a cercarla e mi ha fatto doppiamente piacere uno che l'autore e il curatore della Public Domain Review mi hanno dato il permesso di pubblicare questo articolo in italiano ovviamente che era inedito e hanno anche poi insomma dimostrato grande interesse per Axis Mundi per la rivista che non conoscevano e quindi un attestato di stima da parte di entrambi che a me fa molto piacere Mike Jay in questo articolo si fonda studia quel movimento che avvenne in Francia nella Francia dell'Ottocento soprattutto a Parigi dell'Afghan des Siecles in cui a partire prima da Gautier Baudelaire Verlaine per arrivare poi a Rimbaud e poi appunto a Mo Passante e Jean Lorrain questi simbolisti questi decadentisti utilizzarono determinate sostanze psicotrope nel caso dell'articolo si parla soprattutto dell'etere o cloroformio per appunto visitare diciamo così in spirito determinati mondi che poi hanno utilizzato nella loro letteratura nella loro poesia il che non è dissimile da quello che fece precedentemente Teofil Gautier o Baudelaire o Thomas De Quince con Loppio con Lashish il discorso è anche qui che queste sostanze non vanno prese nell'esperienza singola ma appunto come viatici verso questo altrove questo altrove onirico che però appunto è molto più ampio del sogno comunemente inteso ed eccoci al nocciolo della questione perché poi il nocciolo della questione di questo numero sono gli stati alterati di coscienza nelle loro varie declinazioni perché poi al di là del sogno l'incubo e l'altrove quello che li lega insieme è quello di essere appunto stati alterati di coscienza che all'interno dei vari articoli vengono analizzati sotto più sfaccettature ma qui abbiamo proprio l'incontro dell'uomo con una dimensione altra incontro che può essere onirico e piacevole può essere inquietante per esempio come nel caso dei racconti di Lovecraft può essere traumatico come nel caso che credo molti avranno sperimentato delle paralisi del sonno che sono cose che possono capitare anche per sbaglio e anche comunemente quindi tutto un insieme di esperienze che sono in un certo senso non classificabili non classificabili ma all'interno di questo numero voi cercate in un certo senso di metterle insieme e di creare una sorta di mappa dell'altrove se vuoi vuoi parlarci quindi un pochino degli articoli che si susseguono all'interno della rivista secondo questo schemino quindi onirico inquietante e reale certamente hai fatto un'ottima definizione a mio parere io inizierei allora questo discorso riprendendo quanto già detto parlando della meta letteratura appunto francese di fine ottocento e di Lovecraft perché c'è un altro grande autore anzi poi c'è anche Blake e Yates però magari lo diremo dopo c'è un altro grande autore un poeta Coleridge Samuel Taylor Coleridge che conosceranno moltissimi che ebbe tramite un'esperienza onirica ebbe questa esperienza onirica che è considerata da tutti gli studiosi della storia della letteratura inglese come qualcosa di abnorme sconcertante in due parole cosa successe a Coleridge lui praticamente ebbe in sogno la visione di un poema il Kubla Khan che lui appunto si affrettò a scrivere al risveglio avendo ben presente tutte le parole le atmosfere le rime se l'era proprio sognato in maniera pedissequa il problema è che mentre lo stava poi mettendo sulla carta gli suono alla porta di casa questo misterioso visitatore proveniente da Porlock questo riferisce la storia e con una scusa lo tenne occupato sulla porta giusto il tempo che poi quando ritornò indietro alla sua scrivania non ricordò più nulla di quello che stava scrivendo di quello che aveva vissuto nel sogno questo è un fatto sconcertante per molti perché è come se Coleridge in quel momento tramite l'esperienza onirica avesse davvero visto oltre qualcosa di veramente meraviglioso veramente sconcertante appunto però è come se fosse arrivato questo agente un po' misterioso un po' alla man in black se vogliamo fare un paragone contemporaneo che in qualche modo l'ha trattenuto da scrivere le rivelazioni che lui aveva vissuto in questo sogno questo Kubla Khan parlava appunto di questo mitico regno nell'Asia nella Mongolia e le descrizioni che ne diede nella parte giustamente che ci è arrivata che non ci è arrivata integrale per questo motivo lo rendevano sicuramente il suo capolavoro ad appare della ballata del vecchio marinaio che è un altro grandissimo capolavoro di questo scrittore però appunto come alcuni autori come Coleridge hanno trovato la meraviglia tramite l'esperienza onirica di contro Lovecraft ha trovato sì la meraviglia anche lui in certi casi ma questa meraviglia era sovrassata da un orrore cosmico indicibile e alcune esperienze che Lovecraft ebbe fin da bambino se non ricordo male si parla di un periodo di tempo che andava dai 5 ai 12 anni tutte le notti lui veniva rapito da questi demoni del sonno che lui chiamava Night Gaunters tradotto in italiano come magri notturni e queste descrizioni di rappimenti incubici demoniaci poi le ritroviamo in maniera molto pedissequa appunto nell'articolo sulle paralisi del sonno secondo il folklore di tutto il globo terraqueo e poi in maniera più generale nell'articolo di Gianfranco Mede sul Lauro Salentino che è uno di questi spiritelli incubi ben conosciuti dalla tradizione nostrana quindi il discorso è che in queste esperienze ci sono sempre degli agenti sovrannaturali se così li vogliamo chiamare che vengono denominati di volta in volta incubi succubi a volte sono delle guide per il mondo del sogno quindi guide benevole altre volte invece sono come dei demoni torturatori come nel caso di Lovecraft ma il discorso appunto è che tra il nostro mondo della veglia e il mondo onirico o immaginale vi è questa soglia che viene superata solo con l'aiuto di determinati agenti appunto aiutanti o di oppure al contrario appunto demoni torturatori la tradizione aborigine australiana di cui tratta Antonio Bonifacio nel suo magnifico articolo sui sognatori del dream time cerca di mettere ordine in queste su questa soglia appunto tra il nostro mondo e il mondo onirico che la tradizione australiana non a caso denomina il dream time il tempo del sogno quindi non è solo uno spazio ma è anche un tempo a sé stante è un tempo senza tempo adesso mostro anche qualche immagine dell'albo appunto questa è la prima pagina dei sognatori del dream time di Bonifacio e poi per tutto l'articolo vengono riportate queste visioni pittoriche di autori aborigine australiani che mostrano la frattalità se vogliamo di questo di questo mondo altro di questo dream time come anche tra l'altro se noi pensiamo alla mitologia greca per esempio o a quella cosmogonia induista i fiumi infernali paradisiaci e tutto in maniera estremamente frattale l'albero cosmico nelle varie tradizioni come quella norrena dell'Igdrasil e quindi alla fine tutti questi esperienzi oniri che possono diventare sacrali quando c'è una tradizione definita alle spalle che possa appunto aiutare chi ne fa testimonianza e chi appunto si avventura in certi mondi altri come il caso per esempio dell'articolo di Anna Maria Vajamonte su Asclepio o del sogno che guarisce perché appunto nel culto di Asclepio nell'antica Grecia chiaramente Asclepio era considerato figlio del dio Apollo e tramite questa pratica di incubazio quindi di incubazione della persona in un ambiente ipogeo oscuro senza stimoli uditivi sensoriali di nessun genere l'accesso al sogno era in qualche modo guidato dal sacerdote per poter raggiungere quell'altro mondo e avere delle visioni di entità divine insomma o semi divine che avrebbero consigliato a chi ne faceva testimonianza come guarire da una determinata malattia oppure come risolvere una determinata questione che pesava appunto su questa persona e quindi anche qui è come se il mondo che sta al di là l'altrove onirico non sia semplicemente un'esperienza inconscia causata da traumi di tipo freudiano ecco ma anzi sarebbe un alveo un altro mondo un altro tempo a cui il singolo essere umano può accedere e fare esperienze più o meno meravigliose orrorifiche però anche a seconda del proprio temperamento della propria attitudine verso questa alterità e quindi c'è un filo rosso come detto che unisce gli articoli più basati sull'altrove meta letterario come quelli degli autori menzionati o come quello su Yeats e Blake grandissimi autori in cui ovviamente troviamo tutti dei concetti a metastrada tra questo immaginale onirico e la sacralità come saprete Blake in primis ma poi anche Yeats furono considerati dei profeti per quello che avevano scoperto su questo altrove sacrale e poi nei testi di Blake e poi anche in quelli di Yeats si parla dell'immaginazione non nel senso razionale o comune dell'immaginazione ma l'immaginazione appunto come la capacità la potenza dell'uomo non solo di immaginare nel senso comune ma di arrivare tramite l'immaginazione a qualcosa di più grande di più vasto e che va bene oltre l'uomo e il suo destino stavo pensando mentre parlavi che uno dei più antichi rituali che ho trovato all'interno dei miei studi che come sai si rivolgono principalmente ultimamente al vicino oriente antico è un rito che pare risalire all'epoca sumerica di incubazione che è contenuto all'interno di un poema che si chiama Enmercare il signore di Aratta all'interno del quale questi due re si sfidano a indovinelli e ad un certo punto uno chiede all'altro una prova di vaticinio e confermato poi da fonti e tavolette successive questo re del regno di Aratta si reca all'interno del tempio di Giuno si distende e inizia a vaticinare altri poi rituali sono più specifici ma ci sono anche rituali di guarigione tramite il sogno quindi l'incubazione che preludia alla guarigione per esempio il re Lugalbanda all'interno di una caverna evoca gli dei si stende su questo giaciglio con un telo di lino bianco a digiuno e evoca la guarigione degli dei mentre in altri casi sono proprio gli dei che vanno in sogno agli esseri umani quando devono comunicargli qualcosa quindi per esempio le misure per costruire un tempio quindi è come se l'altrove questo regno di mezzo che sta a metà strada fra l'orrorifico e l'onirico nel senso più elevato questa zona di confine ambivalente sia diventato una sorta di terra di scambio fra l'uomo quale essere visibile e materiale e abitanti del mondo invisibile se così vogliamo dire che si tratti di divinità di spiritelli o di incubi e c'era una citazione che mi è piaciuta molto mi pare all'interno dell'articolo su Lovecraft sì in una lettera del 1927 Lovecraft così si confessava salto proprio alla fine della citazione la mia è una così perfetta e compiuta vita di sogno che induce quasi a un'inazione orientale in cui la visione si sostituisce all'agire perché in effetti noi trascuriamo sempre il fatto che quando parliamo del mondo onirico in realtà parliamo di esperienze che sono onnicomprensive che è vero che non si situano nella realtà ordinaria ma sono onnipervasive mentre noi le sperimentiamo e questo aspetto è molto ben messo in luce all'interno del numero di questa rivista perché tutti hanno fatto riferimento a esperienze sensoriali esperienze dell'altrove che sono vissute poi in prima persona in cui si entra in contatto con quest'altra dimensione vuoi approfondire un attimo questa sfaccettatura? Sì quanto stavo cercando di far passare prima vale a dire che sia che si parli di scrittori letterati aborigeni australiani gente comune che vive delle esperienze come quella delle paralisi nessuno c'è sempre un'esperienza del singolo che porta appunto a quest'altra dimensione e poi la lettura o comunque l'esperienza varia anche in base ovviamente al singolo è chiaro che gente come William Blake o come Hieronymus Bosch che appunto di cui appunto si parla in un articolo di Lorenzo Pennacchi mostrando come questo mondo l'onirico immaginale e ovviamente anche terrificante abbia fondato la poetica della sua pittura il discorso comunque che dietro c'è l'esperienza di un singolo che cerca con i suoi mezzi con le sue doti di tradurre quanto vede quanto percepisce dall'altra parte dello specchio se così vogliamo dire ovviamente gli esempi di autori letterari e non che avremmo potuto trattare sono ampissimi penso a Lewis Carroll ma ce ne sono veramente tanti Montaghi e Rod James giustamente abbiamo prediletti alcuni magari degli altri tratteremo prossimamente però quello che certamente sì sì certamente il padre a livello pittorico tra l'altro anche perché tutti conoscono la storia infinita ma c'è un suo libro che dal punto di vista onirico è un insieme di sogni che è lo specchio nello specchio che se non lo conoscete andatevelo a cercare perché è veramente pazzesco ecco la cosa davvero interessante a mio parere che nell'albo si rintraccia nei due articoli sulla tradizione induista della Maya è che in realtà a parere delle tradizioni sacre più avanzate come appunto quella induista dell'Upanishad o la caverna platonica in realtà tutto sembra rivoltarsi come uno specchio vado a dire il mondo reale che noi viviamo quotidianamente in realtà è sogno e il vero mondo è quello che sta al di là dello specchio quindi noi viviamo nell'illusione che è Maya che è la caverna platonica di cui noi vediamo solo le ombre degli oggetti reali e solo uscendo da questo sogno da questa etnosi collettiva l'iniziato può giungere al vero mondo degli dèi delle forme infinite che la persona invece comune considera sogno considera invenzione follia quindi anche questo è un bel rimando di specchi qual è in realtà il mondo onirico illusorio e qual è quello reale che ha una valenza più importante rispetto all'altro e questa un articolo bellissimo di Claudio Capo che analizza le coincidenze i parallelismi tra la dottrina upanishadica della Maya e quella platonica della caverna mostrando come queste due tradizioni mitiche in realtà si rifanno ovviamente allo stesso albio indoeuropeo e sembra ferire proprio al nocciolo della questione cioè alla distinzione tra mondo reale e onirico però questa volta è ribaltato e quindi è vero che Pindaro dice sogno di un'ombra è l'uomo ma da queste letture da queste concezioni induiste e platoniche si capisce che è sogno di un'ombra solo fino al momento in cui non riesce ad evadere da questo mondo umbratile e illusorio raggiungendo invece l'iperuraneo oppure il mondo vero e proprio quello di Brahma di Vishnu a seconda delle varie tradizioni in effetti hai anticipato innanzitutto la domanda che ti volevo fare successivamente quindi la diamo per risposta sul sul fatto che poi appunto esistono delle tradizioni spirituali che postulano il sogno come vita e l'uscita dal sogno come illuminazione e da questo punto di vista hai anche approfondito già e magari andiamo un pochino più a fondo se ne hai voglia un postulato che c'è in effetti in tutte le vie spirituali ossia che esista questo piano immaginale chiamiamolo immaginale chiamiamolo astrale chiamiamolo lunare ambivalente all'interno del quale questa doppia luce astrale è appunto caratterizzata da orrore e meraviglia come direbbe anche il buon Kant se vogliamo e superando questa si raggiunge uno stato di neutralità o di contatto a me piace dire contatto con la luce più che illuminazione perché illuminazione mi fa molto Enel mi fa molto anni 80 70 80 la ricerca dell'illuminazione contatto con la luce forse è più realistico perché come dicono taluni studiosi di tantra tutti gli uomini vivono istanti di risveglio questa condizione differisce dall'uomo comune al risvegliato soltanto per la sua durata quindi un contatto con la luce bene o male ce l'abbiamo tutti prima o dopo nella vita ma il risvegliato fa sì che questo istante di illuminazione possa perdurare nel tempo però è anche vero che questa uscita dalla marea astrale è difficile nel senso che ci sono varie vie per uscire dalla marea astrale talune più violente e altre più votate al misticismo alla pratica all'impegno quotidiano per superare lo scoglio piano piano e all'interno della rivista in realtà non è che se ne parli esplicitamente però diciamo che a un passant tutti quanti gli articoli contengono qualche indicazione perché per esempio specialmente mi riferisco a quelli sulla tradizione induista qui ho la pagina 36 della rivista in cui l'articolo finisce con i magici inganni dello yogin cosmico sono gli yuga le età del mondo questo spettacolo il miraggio del processo fenomenico dell'universo è opera del mio aspetto creativo allo stesso tempo però sono il gorgo il vortice distruttivo che risucchia tutto quello che è stato manifestato e pone fine alla processione degli yuga io pongo fine a tutto ciò che esiste e il mio nome è morte dell'universo e in realtà qui sta parlando il principio di vita qui sta parlando Vishnu appunto in questo racconto mitico che ha appunto a che fare con l'induismo è un tema affascinantissimo che come tu saprai saprà anche qualcun altro che ha letto il mio libro L'angelo dell'abisso sulla figura di Apollo ha molti collegamenti con questo modo di vedere il Dio come che lo si voglia chiamare in un modo o nell'altro come qualcosa che ingloba in sé tutte queste questi opposti duali quindi morte vita luce oscurità tempo e eternità infatti appena prima della citazione che tu hai letto c'è un'altra frase che a me piace tantissimo in cui Vishnu dice io sono l'origine l'origine è il termine che non ha origine né termine il sacrificio con cui si sacrifica il sacrificio io sono ogni essere ogni epoca la mia maia sono i quattro yuga e il mondo che conoscevi non è che un sogno tu stesso un sogno dentro un sogno nello spazio del mio riposo da cui nasceranno altri quattro yuga quindi qua vediamo anche nella famosa frase un sogno dentro un sogno poi ripresa da Edgar Allan Poe ma comunque una frase anche shakesperiana se vogliamo poi citata tra l'altro in Picnic e in Gear Rock uno dei miei film preferiti su cui ho scritto nel primo albu quello dedicato al folk horror vediamo come determinati concetti come appunto la vita dell'essere umano come un sogno dentro un sogno vanno molto indietro nel tempo e hanno a che fare appunto con tradizioni estremamente sacrali e non solo letterarie come si può pensare leggendo Shakespeare o Edgar Allan Poe oppure altri di questo genere e è proprio questa visione in questi due articoli appunto sull'induismo e sulla caverna platonica e poi anche se vogliamo quello di Antonio Bonifacio sui sognatori del Dreamtime che secondo me allargano considerevolmente il discorso anche degli altri articoli del sogno quindi non solo come abbiamo detto esperienza singola e in qualche modo afferente all'individuo che ne fa esperienza ma qualcosa che invece ingloba l'umanità tutta il destino dell'umanità e addirittura del cosmo dei cicli cosmici e forse anche per questo che questo altrove è terrifico fa paura non semplicemente per entità di tipo incubico demoniaco come quelle di Lovecraftiana Memoria oppure gli spiriti della Paralesi del Sonno ma proprio perché l'essere umano nella sua limitatezza trovandosi davanti a queste realtà così abnormi così anche contraddittorie secondo il senso razionale comune dell'essere umano viene messo di fronte a quello che Rudolf Otto denominava il sacro come mistero tremendo qualcosa che è tremendo ed è terrifico non tanto per particolari demoniaci oscuri o infernali quanto appunto per la lontananza che separa una visione così grande dalla limitatezza del singolo individuo che ne fa esperienza mette in crisi tutta la nostra idea del mondo ordinaria e di conseguenza è un aspetto terrifico in quanto demolitorio perché poi se cade l'idea del mondo che diavolo rimane l'ignoto chiaro che di fronte all'ignoto si ha sempre paura adesso prima di facciamo riposare un attimo Marco che non ha preso fiato per 38 minuti e 10 no non è vero abbiamo dialogato ma adesso vi invito se avete qualche domanda a scriverla pure all'interno dei commenti su youtube facebook vi vediamo abbiamo una chat condivisa e nel frattempo ti introduco all'ultima domanda ossia qual è la tua personale visione sul sogno cioè che cosa ci possiamo portare nella quotidianità da questo numero è questa domanda che mi potevi fare anche perché appunto è molto difficile a mio parere tradurre nella vita conscia di tutti i giorni le esperienze oniriche e poi come detto secondo a mio parere l'esperienza onirica è qualcosa che va anche al di là del sogno propriamente detto sicuramente io sono del parere che quello che noi possiamo portare dalla nostra parte integrare nella vita quotidiana è una milionesima millesima parte di quello di cui effettivamente facciamo esperienza in determinate situazioni a meno che appunto uno non sia un Blake o un Coleridge o un Lovecraft o appunto personaggi di questa risma se me lo permetti vorrei mostrare qualche altra anteprima prima di attendere se ci sono domande anche degli altri articoli che abbiamo menzionato così da mostrare un po' anche la grafica insomma dell'albo come questo disegno della nostra Chiara Silvia Salvini che è una abitue delle nostre pubblicazioni oppure le prime due pagine dell'articolo su Coleridge Kubla Khan o ancora spero che si veda abbastanza bene comunque è benissimo siamo andati a cercare delle immagini anche delle prime edizioni del Kubla Khan per esempio non pubblicate in Italia questo è quello su Mopassant e Jean Lorrain i sogni dell'Etere e anche qui ci sono delle opere che andarono ad illustrare alcuni dei racconti della Parigi di Fin de siècle appunto ispirati ai sogni dell'Etere vediamo una una netta nota orrorifica con dei ragni pipistrelli animali volanti rospi o ancora alcuni quadri che richiamano le visioni oniriche di Lovecraft in questi mondi al tempo stesso alieni e ancestrali Eschel ovviamente ci sta benissimo con queste descrizioni Lovecraftiane oppure abbiamo parlato di Vishnu e del sogno il sogno di Vishnu della Maya e della caverna platonica e ovviamente c'è sempre anche una ricerca iconografica particolare e anche cromatica se mi consenti di usare questo termine per esempio ecco l'articolo già mostrato sugli aborigeni australiani è cromaticamente incentrato sull'arancio e sul rosso quello invece delle Paraisi del Sonno è tutto incentrato su colori molto più scuri come il viola ci sono delle pagine proprio interi articoli con testo bianco su sfondo nero e illustrazioni a mezzo tinte proprio per dare questa idea di oscurità ecco questa è un'altra immagine bellissima che ho trovato tra l'altro dal sito Public Domain Review che sarebbe l'effetto del cloroformio su un paziente quadro di fine 800 che richiama tantissimo le cosiddette esperienze di paralisi nel sonno ma anche i rapimenti di abduction aliene per così dire e quindi anche questo invece aspetta l'articolo su Bosch in cui vengono analizzati questi elementi immaginali orrorifici delle sue varie opere da Lorenzo Pennacchi appunto e tutto quanto sembra riconnettersi nuovamente a quelle visioni di cui si parlava sia di Lovecraft che di Mopassant che di Blake infine il raggio verde di Alessandro Gabetta che è l'ultimo articolo dell'albo Gabetta è uno psicologo junghiano io lo conosco di persona mio caro amico e il raggio verde naturalmente è famoso innanzitutto per il film di Eric Romer che prende il nome appunto del raggio verde però in realtà la ricerca dell'autore va indietro all'alchimia il raggio verde come la viriditas e quindi dei ragionamenti che vanno ben oltre il film e il romanzo da cui è stato tratto e qui ovviamente il cromatismo non può che essere verde con queste immagini di aurore boreali o similia comunque anche queste di fine ottocento quindi allì fuori dei diritti d'autore poi questa bellissima immagine a mio parere tratta da un trattato alchemico medievale spero che si veda bene in cui la viridita sia il raggio verde sa significare qualcosa di ben più che un mero raggio verde che c'è nel cielo come nel film di Eric Romer quindi anche qui c'è una ricerca come ho provato a fare anche nei precedenti albi e sul sito tento di fare tuttora tra i vari piani di lettura appunto collegati da dei ponti simbolici e oltre che simbolici proprio anche visivi visuali per mettere al lettore a chi usufruisce di questi scritti di poter tracciare anche dei collegamenti parallelismi che non siano esplicitamente messi nero su bianco ma che possono poi nascere nella mente dello stesso lettore appunto prendendo visione di questi contenuti e di questo credo che parleremo più approfonditamente nella prossima diretta che abbiamo insieme che invece è sui tuoi canali perché presenterò da Marco il mio ultimo libro che è i misteri di Inanna e all'interno di questo studio che si rivolge in particolare al vicino oriente antico uno dei primi capitoli tratta proprio del passaggio del cervello umano perché poi inizio il dono è questo da un un settaggio immaginifico dell'epoca precedente la storia quindi quando ragionavamo per pittogrammi ok all'urbanizzazione che poi ci porta diritti diritti all'interno del mondo amministrativo e della scrittura in cui iniziamo a settarci su un pensiero discorsivo e quindi il fatto di voler mettere insieme all'interno di Axis Mundi il linguaggio discorsivo insieme al linguaggio immaginifico secondo me lo rende sempre estremamente completo come approccio perché le due cose non sono mai disgiunte se vogliamo poi nell'apprendimento avere un approccio davvero unitario anche proprio a livello cerebrale sono d'accordo io non so se siete addormentati o se siete molto presi da quello che diciamo ma vi invito a rifigliarvi se avete qualche domanda no io ne approfitto anzi Anna visto che hai menzionato la diretta che faremo del tuo nuovo libro sui canali di Axis Mundi visto che inizieranno ora le dirette stagionali le ho volute rimandare di qualche mese per poter curare appunto le nuove proposte editoriali quindi l'albo e i prossimi libri a cui sto lavorando per la casa editrice ricordo anzi lo annuncio in realtà che presenteremo il tuo libro mi sei di Anna il 7 febbraio e a questo punto annuncio in anteprima assoluta anche le due i due appuntamenti successivi nelle due settimane che seguiranno ovvero il 15 febbraio avrò il piacere di avere nuovamente ospiti il professor Massimo Centini per parlare della sua della sua nuova pubblicazione che è estremamente tra l'altro ehm attuale visto anche certe polemiche che si sono state sono uscite negli ultimi tempi sui mass media e si titola Fiabe criminali sottotitolo violenza omicidio e malvagità nella letteratura per l'infanzia un argomento che ha messo molto a cuore perché ho scritto sull'autrice Pamela Linda Travers Lyndon Travers che è famosa per Mary Poppins sai più però era una grande cultrice una grande esperta di mitologia gaelica e folclore celtico e lei stessa sottolineava come l'aspetto criminale violento malvagio delle fiabe è strettamente connaturato ai riti di iniziazione delle società tradizionali questo è un argomento che sta molto cuore anche alla gentilissima professoressa Emanuela Chiavarelli che mi onora e alla sua amicizia e con cui sto cercando di organizzare una presentazione con i limiti tecnologici che giustamente una professoressa di questo genere però ci stiamo lavorando e vorremmo anzi riprendere quanto diremo con Centini con la professoressa Chiavarelli e parlare anche di come la rimozione nella letteratura dell'infanzia e nell'infanzia in genere di determinate caratteristiche pericolose possono aver causato a livello collettivo dei grossi mancanze grossi problemi all'essere umano e infine la terza presentazione che faremo questa in data 22 febbraio è questo bellissimo libro che a me è piaciuto tantissimo di Friedrich Georg Jünger che è il fratello del più noto Ernest Jünger su cui non dobbiamo dilungarci Apollo Pan Dioniso a cura di Mario Bosin quel curatore che noi avremo ospite chiaramente ed è veramente un ottimo testo dimenticato se vogliamo dalla storia perché è uscito più di un secolo fa in cui mostra come le figure di Apollo Dioniso e Pan si intersicano tra loro e simbolicamente si possano interpretare in maniera ben diversa dalla famosa dicotomia con da una parte Apollo e la razionalità e dall'altra Dioniso e Pan al punto addirittura che secondo lo Jünger la figura di Pan è quasi più vicina a quella di Apollo che a quella di Dioniso ma su questo non mi dilungo perché appunto avremo modo durante la diretta il 22 febbraio vediamo come ci arriva ti passo una domanda di Andrea Casella ciao caro ciò che è è ciò che sembra non è che un sogno dentro un sogno citazione di Po ciò che sottende la materia è il sogno è da sogno anche questa tutto è illusorio eh questa è la grande domanda oltre a Po secondo me dell'Eupanishad della dottrina della Maya dell'Eupanishad e anche dell'altro del sogno di Vishnu di cui abbiamo già parlato prima ma anche ci sono tanti esempi che si potrebbero fare da un punto di vista tradizionale soprattutto hinduista mi ricordo per esempio nel testo di Zimmer bellissimo miti e simboli dell'India il famoso sogno di Indra eh che si rende conto che pur essendo eh un dio superno uno degli dei più importanti alla fine in confronto eh allo stato del reale più elevato anche lui non è che una formica di fronte a questi cicli cosmici che infinitamente si distruggono per ricrearsi quindi sì eh sogno dentro non siamo altro che il sogno di un sogno però da un punto di vista tradizionalista hinduista e non possiamo dire che gli stessi dei sono sogni di sogni pensiamo anche alla tradizione norrena su cui ho scritto recentemente i miti nordici per la Diarcos anche lì al Ragnarok al crepuscolo degli dei non solo l'umanità morirà per poi rinascere ma gli stessi dei lo stesso Dino lo stesso Thor gli dei più importanti del Pantheon moriranno per poi rinascere quasi come se appunto anche non solo l'essere umano ma anche gli dei stessi siano nient'altro che un sogno dentro un sogno e la domanda forse per chiudere la diretta la possiamo riprendere da un altro grande sognatore tra virgolette David Lynch nella terza stagione di Twin Peaks che si chiede ok ma chi è il sognatore io su qua più chiudirei su questa frase fantastica già eh vabbè Lynch c'è chi non lo capisce e chi mente capire tutto Lynch ne devo ancora trovare uno capire qualcosa di Lynch siamo già ti ringrazio Anna come sempre della disponibilità ringrazio tutti coloro che hanno seguito Andrea Irene tutti quanti adesso non ho tempo Andrea Dario Nascone che saluto Stefania Cristiano ovviamente Cristiano Curti di Venezia con cui avremo modo poi prossimamente su Axios Mundi di presentare alcune delle ultime uscite per la sua casa editrice anche qui non voglio anticipare però ne vedremo delle belle anche con autori stranieri se Dio vuole se riusciremo a organizzarci in questo senso quindi insomma la stagione di diretta di Axios Mundi parte un po' in ritardo però spero che si dimostri all'altezza delle precedenti ecco viste le prime che stiamo fissando e non vedo ora appunto di averti ospite per parlare del tuo nuovo libro innanzitutto onorata all'ora di aprire la stagione quindi ci vediamo il 7 febbraio sui canali di Axios Mundi e invece su Apocalisse in salotto ci vediamo fra due settimane a questo punto vi lascio correre davanti alla televisione che avrete perso i titoli di testa e anche i primi 20 minuti di film credo a che ora iniziano il film adesso non me lo ricordo più alle 9 grazie a tutti per essere stati con noi grazie anche a chi ci ha seguito indifferita grazie Marco ovviamente perché è stata una diretta veramente coinvolgente e adesso rimanete connessi per questi 30 secondi perché vi dovete godere la sigla di chiusura arriva il meteorito grazie a tutti grazie a tutti